Questo c'ha 2600 giri al metro, ma è stato, come si può dire, ammazzato il giro, dandogli tanto vapore. Sì, infatti, in crescatura da vapore. Però quando viene fatto il tessuto, glielo ritirano fuori la brillantezza del crespo, perché gli danno un vapore leggero e glielo fanno rivivere. E nel tessuto dopo li diventano. Questo è un tessuto. Perché il difference between the two. Ok, this, quanta tessitura? 800 giri. Ok, e questo è 2000? Lo tiene con un'attività, 2000 giri. Per ogni mese. Questo, Teresa, è 5 denari di trevina poliestere. Qui ci fanno i filtri per le dialisi. Sì, no? Sì, no? Questo poliestere. Questo è un 5 denari. Mamma mia, è scettilissimo, ragazzi. Grazie. Grazie.